Da azienda in mano alla criminalità a testimonial della legalità. L'atrio del Palazzo di Giustizia di Bari si trasforma per un giorno in un luogo di festa e di convivialità per la presentazione del panettone della legalità, l'iniziativa dell'Associazione Libera, giunta alla quarta edizione. Panettoni preparati da un laboratorio di pasticceria cittadino confiscato nei mesi scorsi perché gestito dalla criminalità locale e adesso tornato a nuova vita. Anche quest'anno sosteniamo i panettoni della legalità, delle gelaterie Gasperini. Abbiamo dato un sostegno sia attraverso l'utilizzo del nostro logo ma anche abbiamo acquistato 50 panettoni che daremo ai nostri coordinamenti territoriali. Questo per noi è un pezzo molto importante, quello del riutilizzo dei beni confiscati e soprattutto delle aziende. È una delle buone pratiche che noi ci portiamo, che raccontiamo in tutta Italia, come da un bene sequestrato e da un'azienda sequestrata si può creare lavoro. Quindi per noi è importante sostenerlo, dovremo sostenerlo tutti e in ogni occasione in cui ci ritroviamo. Le gelaterie Gasperini sono per noi un punto di forza nella gestione e nel riutilizzo delle aziende confiscate. Un'iniziativa che ha avuto anche il supporto dell'Ordine degli Avvocati di Bari e il sostegno delle forze dell'Ordine. Gli Avvocati sono sempre dalla parte della legalità, naturalmente come difensori della legalità, ex articolo 24 della Costituzione. E lo diamo anche l'impegno della magistratura che mostra passione e dedizione al di là del lavoro, il compito istituzionale legato all'emissione dei provvedimenti. Il panettone della legalità, il quarto anno che viene presentato, ed è un simbolo, direi un'eccellenza, nell'ambito di tutte le attività sequestrate ad associazioni criminali e che confermano ancora una volta come una buona amministrazione possa anche in questi casi garantire degli utili.